Mi chiamo Clarice Precious Jones. Voglio stare sulla copertina di una rivista. Voglio un ragazzo con la pelle chiara e bei capelli. Ma prima voglio fare uno di quei video di Antivy. Sei una ritardata, nessuno ti vuole, nessuno ha bisogno di te. La scuola non ti serve a niente. Porta quel culone dagli assistenti sociali. Hai 16 anni, sei ancora in prima liceo e sei incinta per la seconda volta. La prima cosa che ti viene in mente è quando pensi a casa tua. Prima o poi dovrai parlare con qualcuno se vuoi il tuo segno. Visto che volo! Precious, ho fame. Pensi di mettere qualcosa da mangiare in quella padella? E il mio colore preferito è il viola. So cantare bene e sono qui perché amo insegnare. Mi chiamo Luen, il mio colore preferito è beige fosforescente e sono qui per prendermi il diploma. Clarice, tu che cosa sai fare? Niente. Tutti sanno fare qualcosa. Precious, pensi di essere una donna solo perché te ne stai lassù a fissarmi? Tu non sai cos'è una vera donna? Una vera donna si sacrifica! È inutile che fai così grassona di merda! Vieni subito qui! Vogliamo parlare un po' dei maltrattamenti? All'interno della sua famiglia sa a cosa mi riferisco. Lei se ne sta lì e mi giudica, scrive appunti sul suo quadernetto e pensa di sapere chi sono. Nessuno mi vuole bene. C'è chi ti vuole bene, Precious. Ti prego, non mi dire così. Nessuno ha mai fatto niente per me. Mi rientrano di forte, mi fanno sentire inutile. Il tuo bambino ti vuole bene. Io ti voglio bene. Io ti voglio bene.